Oggi sono a comunicare ufficialmente al Consiglio regionale che il mio partito, io e il nostro gruppo, in piena linea con quanto deciso anche dal mio coordinamento nazionale e dal mio Presidente Berlusconi, voteremo a favore di questo referendum, perché si è trovato un accordo di metodo che permette di affiancare la legge che richiede l'istituzione del referendum con un ordine del giorno, condiviso già nella pausa pranzo nel suo testo dai capigruppo di Forza Italia, della Lega dei Fratelli d'Italia, che verrà affiancato alla legge e che chiarirà quegli aspetti su cui c'era qualche dubbio. Ieri dichiaravo che la situazione era dall'astensione ma evolveva al voto positivo, oggi in piena linea, in piena coerenza come accade in politica, perché se altrimenti ci nascondiamo questo vuol dire che viviamo sulla luna, le cose maturano e maturata è una posizione comune di cui io sono molto soddisfatto perché l'obiettivo che noi ci poniamo è restituire la dignità del voto. La dignità del voto vuol dire che se io voto una persona e questa vince le elezioni è lui che deve andare a governare e non chi le elezioni le ha perse. Se io voto una persona in un partito, se questa persona cambia partito, si dimette e perde il posto che i cittadini gli hanno dato. Questa è l'ossatura di questo referendum. Credo che non sia male parlarne anche in questo Consiglio e credo che sia bene che ancora una volta, perché fa bene anche al governo del Piemonte, il centrodestra e le forze che sostengono questa maggioranza abbiano saputo trovare la maturità di individuare una condivisione che si porterà a un voto compatto e favorevole. Grazie.